Buonasera a tutti, in questo video volevo parlarvi di ciò che dice il Corano su Gesù. Nessun cristiano ha mai letto la Sura Mariam. Nella Sura Mariam, che è la diciannovesima ed è una Sura Meccana, Gesù è definito il più grande dei profeti di Dio, quindi invito a leggerla. Per chi non sapesse che Gesù è il più grande dei profeti di Dio, quindi per quei cristiani che in realtà non sono cristiani ma seguono un Dio pagano, invito a leggere la Bibbia, la profezia di Mosè in Deuteronomio. Mosè era il liberatore di Israele e Mosè fece una profezia precisa. Se noi guardiamo Deuteronomio 18, versetto 15, che cosa dice? Dice che un profeta sarebbe sorto da Israele. Infatti Mosè dice ai suoi fratelli riuniti, ovvero al popolo di Israele, dal tuo proprio mezzo, dei tuoi fratelli, il tuo Dio susciterà per te un profeta come me. Lui dovrete ascoltare. Quindi il profeta che doveva venire era il Messia delle aspettative ebraiche. Ma a nessun punto viene detto, oppure gli ebrei credevano che il Messia sarebbe stato Dio. Questa è un'eresia nata con Costantino, che affonda le sue radici nel paganesimo greco-romano. Se noi prendiamo anche un altro versetto, sempre di questa profezia di Mosè, che cosa dice? Versetto 15 Quindi Gesù è definito nella Bibbia, in Deuteronomio, nella profezia di Mosè, un profeta come Mosè. Infatti Dio dice un profeta come te, è Dio che sta parlando a Mosè. E deve accadere che l'uomo che non ascolterà le parole che gli pronuncerà nel mio nome, io se gliene chiederò conto. Quindi un profeta come Mosè era proprio Gesù, il Messia, che doveva venire. Ora, il fatto che sia definito Dio nasce da una falsa credenza. Noi sappiamo che Mosè compì miracoli con l'aiuto di Dio. Se noi andiamo a prendere Esodo, e questo molti cristiani non lo sanno, e quindi c'è un'errata interpretazione di quello che è la figura di Gesù, sappiamo che Dio mandò Mosè da Faraone, quindi dagli egiziani, per liberare appunto gli ebrei dalla schiavitù. Ma Mosè, anche se poi compì miracoli con l'aiuto di Dio, addirittura apri le acque del Mar Rosso, sappiamo che aveva difficoltà a parlare. Alcuni dicono che fosse balbuziente. Allora che cosa fece Dio? Gli diede come aiuto Aronne, suo fratello, e disse, e devi parlargli e mettergli le parole in bocca. Quindi Aronne avrebbe parlato al posto di Mosè. Sarebbe stato in un certo senso il profeta di Mosè. Io stesso mostrerò d'essere con la tua bocca e con la sua bocca, e senz'altro vi insegnerò ciò che dovrete fare. Ed egli deve parlare per te al popolo, e deve avvenire che egli ti servirà come bocca, e tu li servirai come Dio. Quindi sta dicendo che Mosè sarebbe stato come Dio per suo fratello Aronne. Aronne sarebbe stato il profeta. Ma non è che sta dicendo che Mosè è Dio, nessun ebreo avrebbe detto che Mosè era Dio, ma sarebbe stato il portavoce di Dio. Questo era Mosè, questo è Gesù. Quindi quelli che dicono, andate a leggervi questo passo dell'Antico Testamento, se voi dite che Gesù è Dio, qua sta chiamando, tu servirai come Dio ad Aronne. E quindi sarebbe stato il rappresentante di Dio tra gli ebrei di allora. Quindi Gesù invece è stato il rappresentante di Dio per l'umanità intera. Quindi chi dice che Gesù è Dio non conosce la Bibbia. Con questo è tutto, vi saluto.